Ballone San Giovanni che arriva al maneggio ci vedono i prati Alpetta ecco la cima fascia la cima fascia deve essere questo o cosa della perla qua c'è cosa della perla qua è un bel vedere ci fermiamo un attimo questo è sempre ai sassi grossi un attimo un attimo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Certo che chi l'ha fatta, si è fatto un fulo. Eccoci qua. Questa è la perla? No, è buario. Sì, sì, infatti questo è famoso. Allora, lì c'è una bella frana lì all'alpetta. Ci sono quelli che ci scendono, magari scendono un po' più in là, la tavola se la fanno. Allora, l'ho messo su internet. Perché non l'ho visto? No, l'ho messo su internet. C'è un po' più in là. Andiamo a... Adesso che è sedito? E' un po' più in mezzo. Guarda, è un po' più in mezzo. No, è uno... E' un po' più in mezzo, però c'è una barba, c'è una barba, c'è un po' più in montanaro, ma da rossi e c'è un po' più in mezzo. E una volta ho trovato un limonetto, c'era uno che mi diceva, io posso portare un po' più in mezzo a trovare, no? Poi mancano un po'. Poi mancano un po'. Però c'è l'abisso, tutte quelle cime lì. Anche cima fa c'è la cimera. Ti portano sempre l'acqua. Ciao. 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 Ciao.